HI GORIORS! Siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video play, questa volta su Course Party Blood Covered o come si chiama, gioco. Course Party su questo sono abbastanza sicuro, su Blood Covered un po' di meno ma in ogni caso siamo qui sempre con Shinnozaki e Yushiki e avevamo trovato, se non mi sbaglio, la lingua di Tokiko insieme alla bambola maledetta, quella ce sta sempre, perché ovviamente è feca così e ora dobbiamo solo andare trovando sta la tizia della lingua, quindi... no, proviamo a andare da qualche parte tipo... tu? Sei tu il tizio della... no, non sei tu, qui forse... qui c'è un cadavere, bene eh... hai lo! eh... eh... ah no no tu... eh... eh sei un genio è la stessa che hai visto prima, ciccio E... Di sicuro la lingua gli manca Non lo fai sapere Gliela devi dare in pasta Te prego Te prego Fa che lei e fa che non ha un bad ending Lo spirito della bambina Abbarcò in direzione di Ayumi Mentre tutto il sangue gli coda da parte Che schifo Su qua all'arancia Cazzo Ho premuto troppo in fretta Non ho detto E lei? E lei? Yes! Ok Arrivederci Arrivederci Scappa 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 Dove devo andare adesso? Tipo l'infermeria? Forse? I don't know Seguiamo la bambina in rosso Cosa bambina in rosso? La famosa Sashiko Quella delle figurine panini No dei cosetti Ok 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 Quindi? Quindi? Eh eh I don't know No? 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 Sembra più una perculata Da come lo dice Vicino alle sue viscere Sì è assolutamente una presa per il culo Wow Grazie Fantastico Meraviglioso È ovviamente una perculata Si è mossa da sola? Ok Allora No tratti Che è vero Che für Cosa Beh Va Allora Sperre Allora Lei Dove Cosa Sì Chi Si 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 No Chi Ma E' un'altra cosa... E' un'altra cosa... C'era cosa? Ah, un po'... Tu, dove ero? C'era l'altra parte, ma... ...e' un'altra volta... Come fa a spostarsi fra le dimensioni? A meno che non sia già morto Siamo fottuti Siamo fottuti tantissimo Eh Eh Ah, poi c'è anche la mia moglie di Mochida Oh, veramente? Sì? 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 Cosa è lo scoce? Voglio trovare.. Sì? Gli ha una cosa fu? Sì? Sì? Volevo proseguire Sì? Sì? Ecco qua Scogliare la mia moglie ok anche su questo c'è un coso classe 52 yuki kanno ed è molto probabile tu non hai notato niente di strano ovviamente yushiki eh già Cosa potrebbe mai essere successo? Oh già, a parte aver massacrato gente a culo E ti prego, facciamo in modo che il fantasma di quella bambina sia quella che ha la lingua O c'è andata da sola quindi Sì? Ti prego, dimmi che abbastanza La bambina abbassa la testa e comincia ad oscillare avanti e indietro in modo ansioso Hai offerto allo spettro la lingua di Yuki Oh Oh Yeah Oh 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 Poveraccio Possiamo dei momenti peggiori per un uomo Essere friendzonato Oh 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 Tollersi dal crepaccio Oh 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 2 4 Oh x Mhm Oh mio Dio sono tornati Oh Ehi Ciccia Ah Non può finire così bene E manca ancora un capitolo Ehi Ciccia No No probabilmente è tipo una finta bastardissima ma Ok dov'è l'inghippo Dov'è la fregatura? Dov'è la fregatura? Ok sesso fra i banchi Sesso selvaggio fra i banchi Sapete scopata dell'altoria Una roba così Andiamo Eh già Quindi Ora possiamo Ok Mentre qui c'è qualche testa A proposito Che figlio ha fatto la maestra? Ci ho pensato adesso E' da un po' che non la vedo Ed era rimasta tecnicamente viva dopo il Secondo capitolo Ok punto alle venti Ma qui non c'è anima viva Yep Bene No direi di no Sì ok Ok quindi cosa vuoi che faccia Devo Dittivo Devo What? What? Ok 2710 Festival culturale Venite in tanti Giorno lavorativo Nomura Takayanagi Quello che è Vogliamo acquistare un bouquet di fiori Per la nostra cara amica Mayu Che ci lascerà per trasferirsi Nella nuova scuola Dopo il festival Se richiedono 300 yen a persona Contattata a Yumi Shinazaki Per il pagamento Già Già Nell'avventurarsi in cerca di altri Pensi che persino il bidello Probabilmente sarà tornato a casa Visto che è rimasto tutto buio Solo un bagliore di luce rossa Vicino ad un estintore Offre una tregua al nero dominante Che prevade il corridoio della scuola Con l'aumentare di intensità Dei tuoni della pioggia Le finestre hanno iniziato a condensarsi di umidità Diventando bianche in contrasto Con il mare di nero Eh 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 Sirozaki Eh 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 E Eh Non c'è? Non c'è ancora finito? Non c'è? Cosa? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? È proprio questo tipo di fattore di fattore. E? E' così brutta se togliamo il fattore occhio cavo, madre. Ok. Cosa? 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 Ah, non certo. Non so. Non c'è, non c'è. Non c'è un piazzetto che si fa a vedere la mia madre. Non c'è. Non c'è più l'applicazione. Non c'è l'applicazione. Non c'è mai buono. Ok 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 Poi ci massacra tutti In realtà ha detto Oni-san e Oni-san Quindi fratello luna e sorello luna Eh Cuno 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 Sì. Grazie a tutti per aver fatto che ci sono stati morti. Allora, hai fatto una cosa? Cosa? No, non è possibile. Ok Ok Beh direi che quello che è successo a Mayu Sia abbastanza chiaro che no non è servito No direi di no Cosa? 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 c'è pure la sorella medium, yeah! あの空間はたくさんの無関係な命を食べ過ぎました。 あそこで死んだ人たちの恨みの念がもう満員だから、 行き場をなくした悲しい思いたちの影響でわずかに残った理性を失い始めています。 私だって生きている人をただ無差別に襲うだけの音量になってしまいます。 あなたも味方してくれなくなるの? だったら、なおさらいちょがなきゃ! なにか、おちだくんたちを助ける方法はないの!? 一つだけあります。 ど、どうするんだよ!? お兄さんも知っている方法です。 あの場所へ戻って、 私たち、現人小学校の 児童4名誘拐殺害事件、 被害者を生物させてくれれば、 歯車を失ったい空間に お気に入り、 お気に入りの人たちを お気に入りの人たちが、 そこへ、 また戻るのかよ? それに、 せっかく残りあと一人だと思ってたのに、 そんなつもりのお前らさんにも じょうぶつしてなかったじゃん? どうしてさっき、 口を持ったの? これが… それが… 思い出したくないのです。 あ、 ついても、 から、 きゃあけら。 どうしても知りたいのなら、 教えます。 あの時のこと… Ok, vai. Lo spirito di Yuki gentilmente afferra la mano di Ayumi e in un istante loro due sembrano essersi fusi in un'unica mente. Ok. Ah, quindi? Oh, ce l'ho. Oh, ne soffro orrendo. Praticamente quando vi svegliate, cioè praticamente vi svegliate ma il fisico non si sveglia. Quindi praticamente voi rimanete così e non riuscite a muovervi. Ogni tanto mi succede bruttissimo. Oh. Eh, ok. Eh, eh, eh. Eh, ma infatti mi continuo a puzzare sta storia da Adizia in rosso. Ok. 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 La mia famiglia di amici è riuscita a un'occhiaire in un'occhiaire, e mi sembrava anche a un'occhiaire, e mi sembrava anche a un'occhiaire. Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Sì! Sì! Ma... Cosa c'è? Ma... Ma... ... 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 Non mi sembra come un uomo, come un'onda sinusoidale che si infrange nell'aria come un'onda sinusoidale per... In quel momento è proprio la prima cosa a cui pensi quando senti uno strillare, no? Tipo, oh mio Dio, ora mi cagherò nelle mutande, no no. No, no, è proprio un urlo di terrore che si infrange nell'aria come un'onda sinusoidale per... Ci avete dei problemi. Cioè, no, è ancora vivo. Oh mio Dio. Non è un bad ending, vero? Ah, ok, no. Trenta minuti di strilli, wow! Già dico di merda! Stoiccola, 1,2,3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 9, 11, 11, 12, 11, 12, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 12, 14, 19, 20, 21, 19, 23, 21, 22, 21, 2019. Sì Non è finita, non è finita... E' pronto... E' pronto... Io... ... che vorrei... ... che vorrei... ... non lo so... ... ma... ... e' pronto... ... che scatare cosa ne hai mai... ... aah... ... non credo che ti lascia perdere... ... cioè è tipo vi ucciderò tutti... ... e' così... ... chissà come mai... ... che una nuova piaccia... ... che non è finita... ... che sceglie un bel tecchino... ... e che non è finito... ... come si usate... ... che va... Cosa è che mi preoccupa? Se iniziare a casa, adesso... ...è il mio lavoro! ... ... ... ... ... ...dia prendere il cuore, suonare la mano, e si prenderemo il cuore, e se si prenderemo il colpore, il mio pezzo di testo.... Noi sono un'esplitante. 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 Non c'è stato un'esplitante. Ma è necessario... ...e' stato fatto che c'era un'esplitante. C'è stato un'esplitante. In un'esplitante, i ragazzi, i ragazzi, che hanno chiamato il pezzo di pezzi, ma... ...e' stato fatto un'esplitante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh mio Dio, la bambina vestita di rosso. È la bambina vestita di rosso. Oh, è la bambina... Il naso non mente mai... mai! Oh, è la bambina vestita di rosso. 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 Oh, è la bambina. Oh, è la bambina vestita di rosso. Oh, è la bambina vestita di rosso. Oh, è la bambina vestita. Oh, è la bambina vestita di rosso. 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 sparti bene dammelo questo video on play per l'ultimo capitolo che a quanto so è il più lungo tra i 5 quindi durerà un po' più del 4 non so quanto ma wow siamo quasi arrivati alla fine siamo quasi arrivati alla fine ragazzi sì sì lo so grazie so che c'è tutta questa roba quindi termino questo video on play spero che questo video on play vi sia piaciuto se è così vi dovete mettere un bel piace qui sotto e condividere con i vostri amici e noi ci vediamo al prossimo video on play dopo che ho un po' su Rax Novatura ciao a tutti bro ecco un po' spiegato che cazzo sei tu ciao a tutti ciao a tutti